Per prima cosa dobbiamo inserire i partner. I partner possono contribuire attraverso risorse economiche che danno direttamente al capofila, possono contribuire attraverso azioni e utilizzo di risorse pagate direttamente e messe a cofinanziamento o attraverso azioni non valorizzate economicamente nel budget. Noi ci occuperemo ovviamente delle prime due. Vediamo ora dentro il role come si configura. Abbiamo già inserito un ente 1 e un ente 2. L'ente 1 vediamo entrando che è un'impresa, un partner sostenitore, cofinanziatore con risorse finanziarie. Abbiamo scelto nel menu a tendina cofinanziatore con risorse finanziarie. Ci si apre questo piccolo form e diciamo che mette a disposizione 1000 euro. Nella spiegazione oltre ad altre cose metteremo l'ente 1 che darà un cofinanziamento di 1000 euro al capofila. Abbiamo un ente 2 invece che è un ente sempre sostenitore ma con partecipazione attiva ad azioni progettuali e messa a disposizione di risorse umane o materiali valorizzate economicamente. Abbiamo scelto questa opzione dalla tendina. Imputiamo 3000 euro e qua scriviamo il comune metterà a disposizione specifica del progetto o proprio personale per un importo di in questo caso 3000 euro. Salviamo il nostro e abbiamo creato i nostri due partner. Il passaggio successivo è lavorare nella sezione budget. Quando inseriamo una spesa dobbiamo dire da chi è sostenuto o chi è imputata. Se è sostenuta nella forma del cofinanziamento si deve inserire chi la supporta. Ovviamente poi vedrete il sistema controlla che quanto è attribuito al partner come cofinanziamento corrisponda alla cifra poi definita nella spesa. Vediamo a questo punto come intervenire sulla sezione del budget. Inseriamo una spesa, mettiamo materiale di consumo nella descrizione, import numero 100, import unitario 10, importo richiesto alla fondazione 0 e poi mettiamo la nostra descrizione all'interno. Spieghiamo con l'acquisto di 100 cose per l'attività e scriviamo che tale importo è sostenuto con i soldi messi a disposizione dal partner. Lo inseriamo e rientriamo. Dobbiamo fare questo passaggio. Vedete che a questo punto compare il pulsante inserisce. A questo punto inseriamo il nostro ente 1, imputiamo la cifra di 1000 che è quella che abbiamo detto nell'altra sezione, che è la cifra che ci mette a disposizione e lo inseriamo. A questo punto lo salviamo. Vedete che se noi andiamo a vedere nel nostro piano economico abbiamo un costo totale di progetto 2000 euro, un importo richiesto alla fondazione di 1000 e un cofinanziamento ottenuto di 4000. Quindi c'è un problema che ovviamente dobbiamo aggiungere l'altra nostra spesa. In questo caso mettiamo risorse umane, avevamo detto che il comune metteva a disposizione dei propri dipendenti, mettiamo 100 ore per 30 euro costo ora per il dipendente, importo richiesto 0, vedete che il pulsante non compare ancora in questa fase, dobbiamo fare questo doppio passaggio, inseriamo la spiegazione, il comune metterà a disposizione come cofinanziamento e inseriamo. A questo punto rientriamo all'interno delle nostre risorse umane, compare il pulsante inserisci, andiamo a inserire il nostro ente 2, andiamo a inserire la cifra che è di 3000 euro, inseriamo e salviamo. A questo punto se ne andiamo a vedere, vedete qua abbiamo 5000 euro di uscite e 1000 di entrate richieste alla fondazione, ma come possiamo vedere qui abbiamo 5000 euro, 1000 richieste alla fondazione e 4000 di cofinanziamento ottenuto. A questo punto abbiamo imputato correttamente le uscite e le abbiamo correlate alle nostre entrate, parzialmente richieste dalla fondazione e parzialmente emette dai nostri partner.